Questa è la canzone della mia vita, anzi della nostra vita, quindi la cantiamo forte, forte, forte. Io spero che le persone che escono al mio concerto, nel bene o nel male, perché poi i concerti hanno tutti un loro sapore e ogni artista lascia qualcosa di diverso, secondo me, alla fine di un concerto. Spero che però chi viene al mio concerto possa tornare a casa con qualcosa che dentro lo ha fatto cambiare, con qualcosa che lo ha fortemente emozionato e anche con un grande senso di rivalutazione di quello che si è. È stata un'estate pazzesca, è stata un'estate che ho aspettato tanto, partendo da Lignano, passando per Roma, e poi finendo a Milano. Io sono sempre sorpreso perché sono onesto nel dire che non riesco a dare per scontato tutta questa favola che sto vivendo e che stiamo vivendo, però credo fortemente che tutti abbiamo bisogno di concerti e tutti abbiamo bisogno, me compreso, di vicolare un messaggio tramite i concerti. Quindi io sono contento di rivedervi a Dura24, chi vorrà esserci. Non vedo l'ora e vi voglio bene. Un bacio. Ciao. Ciao.